Ecco la professore. Professore, voglio fare il tronco. Vuole una copa al tuo negozio. Professore, ciao, ciao, ciao. Salutate, ciao mamma, ciao papà. Ciao mamma. Ciao. Ciao mamma, ciao nonna. Salutate, grazie. Anche perché chi si comporta male non è scemo in Roma. Tutto è per meglio. Salutate, salutate. Buonasera. Ciao mamma, ciao papà, dai, dai, dai. Salutate la presa. Sì, bellissima la presa. Sì, bellissima la presa. Sì, bellissima la presa. Perché quando uno è in casa, la cosa che vede proprio alla fine, il monumento lo prende tanto. E va bene. Mi sentite bene, è vero? Come in così piccolo spazio. Ognuno sta fuori. Non manca la voce di sceglia. Non si passa. Non manca la voce di sceglia. Allora, il primo palazzo rilascimentale, non è più che la costruzione tutta, che è praticamente con piccole finestre, con torri e tutto, che più di altro serve come luogo di pensiero. Ormai il periodo si sta facendo tanto, ormai cominciano questi monumenti, questi palazzi in orizzontale. andate in orizzontale. Questo è dell'enorme! Ciao! Ciao! Grazie a rigore! Porto io! Ma tu ci fai stare? Non è? Ancazione a un'amore! Abbiamo un'amore! L'amore! Dovente, ogni ufficienza! Ma ci sono un'amore! Cosa che non è femme! La cosa che ha fatto è passato! O che è il alzalo! Bene viste è il mio film delle storie! E uno è il nostro lavoro! E un'azurale! Grazie. 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 Occhio. Ciao. Eccoci. Ci hanno chiuso. Guarda qua. Ci hanno chiuso l'accesso. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate un like. Instagram, Facebook, Twitter. Come and go in Snapchat. Che vale, volevo andare a più. Che vale. C'è un'usia. Vediamo. Un'usia. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.